Eccoci tornati carissimi per una nuova puntata del Ciclo di Cateri sull'Antico Testamento cui stiamo leggendo, commentando l'edificante e aureo libretto del grande Tobia, una storia veramente bella dalle varie sfaccettature, facilmente comprensibile come ho detto la volta scorsa, il libretto di Tobia può essere letto e capito da chiunque, nel suo senso letterale poi certamente alcune considerazioni magari di carattere spirituale possono richiedere qualche requisito diciamo in più per poterle fare. Riprendiamo una lettura perché siamo variati la volta scorsa al capitolo terzo, se ci attende ancora un lungo cammino, io comincio la condivisione dello schermo se il Signore mi aiuta e così andiamo a rivedere in un attimo con le slides il cammino che dobbiamo ancora percorrere e poi riprendiamo direttamente il testo biblico. Allora, quello che dobbiamo ancora percorrere è, abbiamo visto la volta scorsa, la sorte comune con la diversità dei tormenti di Tobi e di Sara. Uno è caduto in disgrazia a causa della perdita della vista, nonostante la sua bontà, e l'altra affetta da una forma che abbiamo chiamato di vessazione satanica che causava la morte di qualunque uomo osasse appostarsi a lei. La preghiera dei due, siamo fermati lì, sale a Dio congiuntamente in uno stesso momento, Dio interviene e manda l'alcangelo Gabriele. Da questo punto comincia la storia dell'alcangelo Gabriele sul pianeta Terra, appunto, in aiuto di queste situazioni. Quindi vedremo prima l'esortazione di Tobi e Tobia, poi Tobia e Raffaele, quindi l'incontro tra i due, Tobia e Sara, il matrimonio tra Tobia Tobia e Sara, il fatto che Raffaele debbella a Smodeo, dopo la nozze di Tobia e ritorno a casa, e la guarigione anche di Tobi. E infine il discorso con me e di Raffaele, abbiamo già detto che è solo la fine che Raffaele si fa riconoscere al 100%. Andiamo quindi a riprendere alcuni passaggi del testo biblico, che è sempre la cosa più importante, e quindi riprendiamo esatto, dal capitolo quarto. In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabriele in raggi di media. E pensò, ho invocato la morte, perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo prima di morire di questa somma di denaro? Ricordiamo quest'antefatto, no? Attraverso questa somma di denaro Tobia si rega dalle parti di Sara e così la incontrerà. chiamò il figlio e gli disse, qualora io muoia, dammi una sepoltura decorosa, onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua vita. Fa ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati figlio che ha corso tanti pericoli per te quando eri nel suo seno. Quando morirà, dalle sepolture presso di me, in una medesima tomba. Ogni giorno figlio ricordali del Signore, non peccare né trasgredire i Suoi comandi. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. Se agirai con rettitudine, riusciranno le tue azioni come quelle di chiunque pratichi la giustizia. Dei tuoi beni fai lemosina, non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si reverà da te lo sguardo di Dio. La tua lemosina sia proporzionata ai beni che possiedi. Se hai molto, dà molto. Se poco, non esitare a dare secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno. Poiché l'elemosina libera dalla morte e salva dall'andare tra le tenebre. Per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Guardati o figlio da ogni sorta di fornicazione. Anzitutto prenditi una moglie dalla stirpe dei tuoi padri e non una donna straniera, che cioè non sia della stirpe dei tuoi padri perché noi siamo figli di profeti. Ricordali di Noè, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, i nostri padri fin dal principio. Essi sposarono tutti una donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza avrai in eredità alla terra. Ama, o figlio, i tuoi fratelli e il tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli, figli e figlie del tuo popolo e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio, infatti, è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria perché l'Ignavia è madre della fame. Non rimandare la paga di chi lavora per te, ma lui consegnala subito. Se così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, in quanto fai e sii beneducato in ogni tuo comportamento. Non fare a nessuno ciò che non piace a te, non bere vino fino all'ebbrezza e non avere per compagno del tuo viaggio l'ubriachezza. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli innudi. Dai nell'emosina quanto ti sopravanza e il tuo occhio non guardi con malevolenza quando fai l'emosina. Versa il tuo vino e depone il tuo pane sulla tomba dei giusti, non darne invece ai peccatori. Chiedi il parere ad ogni persona che sia sangia. Non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che ragisce ogni bene. Il Signore esalta o umilia chi vuole fino a una regione sotterranea. Infine, o figlio, conserva nella mente questi comandamenti, non lasciare che si cancelli dal tuo cuore. Infine, Tobi appunto rende dotto, Tobia, di questi dieci talenti d'argenti depositati a raggio di media. Se non temere se siamo diventati poveri, tu avrai una grande ricchezza e sarai il timore di Dio. Si rifugierà ogni peccato e farai ciò che piace al Signore. Ora, amici cari, qui se dovessimo commentare adeguatamente questo capitolo quarto, non solo che ci dedicheremmo tutta la catechesi di questa sera, ma per chi sta seguendo la diretta ci faremmo notte fonda. Guido anzitutto a vedere che tipo di raccomandazioni un santo padre fa un santo figlio. Un esempio veramente straordinario, no? Allora, innanzitutto, ricordo il quarto comandamento. Innanzitutto, qualora io muoia, dammi una sepoltura decorosa. Voi sapete la disgrazia di noi poveri preti del 2023 che continuiamo a celebrare funerali di persone che poi si vanno tranquillamente a fare bruciare, credo di averlo già detto la volta scorsa. Per me è una pena una cosa di questo genere veramente indicibile. ci è toccato campare in questi tempi e dobbiamo portare, ahimè, pazienza. Il quarto comandamento, onora tua madre, non abbandonarla, fa ciò che è di suo gradimento, non procurarle nessun motivo di tristezza. Quanti pericoli ha corso per te, quando morirà dalla secoltura presso di meno una velesima tomba. Attenzione al quarto comandamento, soprattutto a trattare bene le nostre madri. A me mia mamma diceva sempre che chi fa piangere la madre non troverà pace nella sua vita. E dice bene, la madre è il bene più prezioso che abbiamo. Un altro mio motivo di immensa sofferenza. Ci sono passato anch'io quando ero giovane di questi nostri proprio scellerati tempi, per carità io mi prendo tutte le mie colpe perché non si può dare sempre la colpa agli altri. Ma il quarto comandamento oggi che fine ha fatto? Io ho tanta pena nel mio cuore perché quando ero più giovane, pieno figlio del mio tempo, io non comprendevo la grandezza e l'importanza di questo comandamento, di quanti genitori devono essere appunto onorati, non dargli mai dispiaceri, fare quello che a loro è gradito e tante altre cose belle. Chi è ancora in tempo lo faccia più che può, ecco perché poi purtroppo quando il tempo passa è passato. Altra cosa importantissima, ogni giorno figlio ricordati del Signore. Questo è ciò che un padre deve insegnare ai figli. Ogni giorno ricordati del Signore. Non peccare né trasgredire i suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. La rettitudine davanti al Signore. Se agirei con rettitudine, poi c'è un salmo, riusciranno tutte le tue azioni come quelle di chiunque pratiche la giustizia. O poi c'è l'elogio dell'elemosina. L'elemosina, quello che abbiamo già parlato, importantissima. Dei tuoi beni fai l'elemosina e sia proporzionata ai beni che possiedi. Se hai molto, dà molto. Se poco, non esitare a dare quel poco. Date questo punto dell'elemosina, figlioli miei cari, è un punto, a mio avviso, di snodo. Io non ci credo tanto alla santità di un cammino di santificazione se le persone non fanno elemosina. Perché, amici miei cari, mettersi la mano in tasca e elargire gratuitamente, tutti quanti dicono che non sono attaccati ai soldi. Tutti. Bisogna vedere quanti lo dicono in verità. E la prova è questa. La tua elemosina sia proporzionata ai beni che possiedi. Se hai molto, dà molto. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, perché l'elemosina è libera dalla morte e salva dall'andrare tra le tenebre. C'ha paura dell'inferno e del purgatorio? Paure salutari, per carità, eh? Bene, sappi che questa è una via privilegiata. Per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Detto questo, è lasciato al nostro buon cuore, però vedete come la Sacra Scrittura, come diceva San Paolo a Timotio, è buona per formare veramente un uomo di Dio, no? Poi, guarda di ogni sorta di fornicazione. È l'Antico Testamento. Non si fornica. La fornicazione è una conduzione carnale al di fuori del matrimonio. E, attenzione, qui viene raccomandato di prendersi una moglie dalla stirpe dei tuoi padri, no? Ovviamente, ricorda che noi siamo figli dei profeti. Noi siamo figli di Noè, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E tu non ti vuoi sposare chi vuoi. Allora, su questo mi permetto una piccola parentesi. Nella Santa Chiesa Cattolica esistono, per esempio, i matrimoni misti. Perché? Per un motivo molto semplice, perché essendo il matrimonio fondato sul diritto naturale, quindi di per sé è possibile che una persona non credente si leghi ad una persona credente e che quindi il sacramento funzioni soltanto per chi evidentemente è credente. Perché una persona che è credente non può legarsi in matrimonio senza vincolo sacramentale. Ora però, voi capite bene, fermo restando che è lecito e che addirittura c'è uno strumento nella Chiesa per poterlo realizzare, perché per carità, ma è una cosa raccomandabile unirsi in matrimonio, per esempio, con una persona di un'altra confessione religiosa o addirittura di un'altra religione, o addirittura atia. O addirittura, anche se non ci sono questi problemi, una persona che non è tanto credente, non è tanto praticante, che è semplicemente battezzata ma poi non gli importa niente. Cioè è chiaro che, io questo vi parlo per esperienza pastorale, di tante sofferenze a cui ho assistito, no? Se uno vuole fare un matrimonio secondo Dio, è chiaro che dovrà sposarsi con una persona santa, non semplicemente una brava persona o una che è bella. Perché se una persona è una brava persona che è bella, non significa che è santa. E quindi il matrimonio non sarà un matrimonio presumibilmente secondo Dio, ma lo sarà. Con tante sofferenze, con tante sfaccettature di sofferenze. È chiaro questo qui, no? Se io mi sposo volendo fare qualche cosa di bello, quindi mi sposo, voglio, per esempio, accogliere tutti i figli che Dio vuole, non praticare nessuna forma di sessualità disordinata. Mettere Dio e la preghiera al primo posto. Fare una famiglia secondo Dio, per esempio, con una donna che sceglie di stare in casa senza lavorare fuori casa per dedicarsi ai figli e alla famiglia, e quindi questo richiede anche un certo impegno da parte del marito, e l'educazione dei figli, per insegnare queste cose, i figli bisogna essere in due. Allora, noi possiamo attualizzare queste raccomandazioni raccomandazioni di Tobi in un senso evidentemente calato, perché non siamo ebrei, quindi non ci troviamo in quella realtà, ma il senso di quello che dice, se vuoi avere un matrimonio santo, devi sposarti di una donna, tra virgolette, della tua parentela, e in un certo senso è vero, perché i figli di Dio, sono i figli di Dio doc, quindi non quelli che sono figli di Dio perché è scritto su un pezzo di carta di un registro parrocchiale, ma quelli che vivono da figli di Dio. Questa è una cosa da raccomandare, no? Poi, non disprezzare il prossimo, stare lontano dall'orgoglio, vedete, dai dovizi capitari, la pigrizia, l'ignavia. E poi una cosa importantissima, e questa è una delle mie palline, non rimandare la paga di chi lavora per te, a lui consegnala subito. Subito. C'è una persona che lavora per te, un dipendente, lo stipendio si dà il giorno stesso, non si procrastina neanche di mezz'ora. Una persona che ha fatto un lavoro in casa, adesso è venuto l'elettricista a metterti a posto tutto, pagalo subito. È venuto all'impresa a farti i lavori di ristrutturazione, appena finisce l'euro e te la fattura lo paghi fino all'ultimo centesimo. Questa è una cosa molto gradita al Signore. San Paolo dice che non abbiamo debiti con nessuno se non quello dell'amore vicendevole. È giusto, è una cosa bella. Chi ha lavorato deve essere pagato, e subito. Tu non puoi far fare la banca a un tuo dipendente, o uno che ha lavorato per te, ecco la scusa, che non c'è soldi per pagarlo. Se non c'è soldi per pagarlo, non glielo puoi fare quel lavoro. E poi, l'educazione. sii ben educato in ogni tuo comportamento. Oggi, tra le tante cose, noi viviamo in mezzo ad una società, ma proprio, che dire, maleducati è fargli un complimento. Abitanti di Cafonia e di Bifolchia, non so se conoscete queste due città, zero assoluto. Io personalmente, l'ho detto tante volte, la maleducazione è proprio una cosa a cui sono non allergico di più. Faccio fatica, non la sopporto, cioè veramente faccio una fatica enorme. A me, per esempio, confesso, confesso, facciamo una confessione. Se una persona che non l'ho mai visto e conosciuto, a me, che tra l'altro sono anche un sacerdote, perché mi scrive una mail e mi dà del tuo, a me dà enormemente fastidio. È superbia, come dire, se lo fosse, Dio mi perdoni, se non lo fosse, ringraziamola il Signore. ma è una cosa che non si fa. Cioè, per me personalmente, io non mi permetto mai di dare del tuo a una persona che non conosco, anche se non è prete. Figuriamoci, ma se io vado, cioè, incontro un confratello, la prima volta che lo vedo gli do del tuo, o a un vescovo. Ma che modo è questo di fare? E non è solo questo l'educazione, no. È bruttissima l'amare educazione, brutta proprio. Ricordo il mio santo padre spirituale che stava nel seminario, che mi diceva, ricorda, Leonardo, che il 50%, forse di più, della carità fraterna è adempiuta con le norme della buona educazione. Vi faccio un esempio. Cioè, l'altro giorno sono stato su un treno, uno dei classici treni Roma-Latina di Uraio di Punta. C'era un sacco di gente, io stavo seduto per terra, ma non dico, io sono stato felicissimo di stare seduto per terra, ma non c'è stato nessuno che ho venuto in mente di dire facciamolo sedere. Io gli avrei detto di no. Ma se avessi visto un gesto del genere mi sarei rallegrato, perché a me mia mamma mi ha insegnato che se io sto seduto su un autobus e vedo una persona anziana o un sacerdote, io mi alzo e gli dico si sieda a lei zero assoluto. Ripeto, cioè io, va bene, se qualcuno pensa che sono superbo e arrogante e orgoglioso è sempre poco quello che di male si può pensare sul sottoscritto. nel cuore sinceramente non mi sento mosso da questo. Io credo che noi dobbiamo dare anche un grande esempio di buona educazione, perché poi la maleducazione evidentemente poi si riflette, perché non è che uno è ben educato con il Signore e maleducato con il prossimo. La maleducazione poi diventa maleducazione confronti dei nostri domini di Dio, no? Le persone che chiacchierano in chiesa oltre che empie e sacrileghe ma sono dei gran cafoni. Come ti permetti tu in casa di Dio di metterti a fare una cosa del genere? Le persone che entrano d'estate nude nella casa del Signore sono delle grandissime maleducate. Ma io vi dico l'esperienza che ho, tu prova a andare a dire qualche cosa, a me mi hanno mandato a quel paese e dentro la chiesa persone a cui mi sono permesso di dire spero con garbo e dico insomma, no? Ti mandano a quel paese davanti ai figli in chiesa. Ora, nel cuore a me sembra di addolorarmi di più per quella cosa brutta che ho visto fare perché è stata fatta in chiesa che non per l'offesa fatta a me personalmente. Però, sapete che potrei sbagliarmi e quindi potrebbe essere io sono un gran superbo e quindi che mi sono adirato perché è stata fatta un'offesa a me e in quel caso una preghiera magari per me fatela perché se fosse vero il Signore me lo faccia ben capire mi faccia pentire mi faccia correggere e demandare comunque io con la maleducazione faccio tanta fatica quindi sicuramente potete pregare faccio veramente fatica a digerirla a contenermi a non intervenire per stigmatizzarla perché è una cosa proprio brutta ognuno ha i suoi pallini ecco vedete non farà nessuno ciò che non piace a te questo Gesù l'avrebbe corretto nel Nuovo Testamento non solo non fare agli altri ciò che non piace a te ma tutto quello che volete che gli uomini facciano voi fatelo a loro e poi non bere fino a lebrezza non avere per compagni dal tuo viaggio l'ubriachezza e poi ancora dal tuo panacchia fame le lemosine e attenzione al tuo occhio non guardi con malevolenza per esempio quando vadiamo qualche euro si spera a che poi i disgraziati ogni tanto se qualcuno c'ha bisogno bisogna tagliere che stanno a pulirsi i vetri cioè è brutto che uno apre il finestrino e con uno sguardo scocciato gli mette in mano questi 50 centesimi no? meglio che uno gli faccia un bello sguardo uno sguardo che lo accarezzi magari un sorriso che se lo ricordo del più se gli è dato che se gli è dato un euro due euro no? quindi chiedi il parere ad ogni persona che sia saggio non dispensare nessun buon consiglio sono tutte altre raccomandazioni meravigliose in ogni circostanza benedici il Signore in ogni circostanza benedirò il Signore in ogni tempo il bellissimo Salmo 33 tutto concorre al benedico loro chiamano Dio e l'abbia detto San Paolo in ogni circostanza benediciato il Signore e gli chiediamo che ci sia via in tutte le nostre vie e che i nostri sentieri e i nostri desideri giungano a buon fine bellissimo no? nel capitolo quinto c'è Tobia che risponde al Padre ebbene quanto mi hai comandato io lo farò ma come potrò riprendere questa somma dal momento che lui non conosce me e io conosco lui che segno posso dargli perché mi riconosca? dispose Tobia al figlio mi ha dato un documento autografo e anche io gli ho consegnato un documento scritto lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte e l'altra parte la lascia per struttura con il denaro sono ora vent'anni da condopositare quella somma cerca di dunque tuo figlio nuovo di fiducia che ti faccia da guida lo pagheremo per tutto il tempo qui un altro ritorno va dunque da capela a ritirare il denaro Tobia esce e cerca uno pratico per portarlo per essere accompagnato in media e adesso qui sorpresa esce chi si trova davanti? l'angelo che è Raffaele ma non aspettando minimamente che fosse un angelo di Dio gli disse di dove sei o giovane? rispose sono uno dei tuoi fratelli israeliti venuti a cercare lavoro attenzione che dal cielo non mentono questa frase non è una menzogna perché numero uno l'arcangelo è uno dei fratelli israeliti in un certo senso sì perché gli israeliti erano l'antico testamento il popolo di Dio il popolo eletto i candidati al paradiso e l'arcangelo Raffaele certamente è uno che il paradiso ci stava quindi gli angeli sono certamente in un certo senso nostri fratelli perché come noi sono figli di Dio in senso stretto e poi è venuto a cercare lavoro e certo è venuto a cercare lavoro il nostro signore l'ha mandato a lavorare in terra a fare un lavoro un po' particolare insomma conosci la strada per andare nella media certo ci sono stato molte volte dice e conosco bene tutte le strade spesso mi regai nella media e alloggiare verso Gabael guarda un po' un nostro fratello che abita a Raje di Media e ci sono due giorni di cammino da Ekbatana a Raje Raje sulle montagne e Ekbatana è nella pianura e Tobia lui dice aspetta che vado ad avvertire mio padre ho bisogno che tu venga con me e pagherò il tuo salario ti attendo non tardare Tobia va e gli dice guarda ho trovato un uomo tra i nostri fratelli israeliti dice chiamalo perché io sappia di che famiglia di che tribù è e se persona fidata per venire con te tu pensa un po' quanto è umile l'arcangelo Raffaele che ora si va a fare l'esame da Tobia Tobia uscì a chiamarlo quel giovane mio padre ti chiama entrò da lui Tobia lo salutò per primo e l'altro gli disse posso avere molta gioia e Tobia risponde ma che gioia posso avere ancora sono un uomo cieco non vedo la luce del cielo mi trovo nell'oscurità anche se io ti muoro con i morti sento la voce degli uomini non li vedo e gli rispose fatti coraggio Dio non tarderà a guarirti coraggio e Tobia mio figlio Tobia vuole andare nella media potresti accompagnarlo io ti pagherò fratello si possa accompagnarlo mi sono regato per espressione nella media eccetera eccetera no Tobia a lui fratello di che famiglia di che tribù sei lì indicamelo fratello e qui Raffaele risponde che ti serve la famiglia e la tribù cerchi una famiglia o un mercenario che accompagna il tuo figlio nel viaggio l'altro gli rispose voglio sapere con verità di chi tu sei figlio rispose sono Azaria figlio di Anania il grande uno dei tuoi fratelli anche qui vabbè gli disse allora sii benvenuto in buona salute fratello non avertene a male fratello se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia tu dunque sei il mio parente di bella e buona discendenza conoscevo Anania è nata i tuoi figli di Semeia il grande venivano con me e là facevano la relazione insieme con me non hanno abbandonato la retta vita tu fratello sono paragente tu sei di buona e dici sii benvenuto continuo ti do una dramma al giorno oltre a quello che occorre a te a mio figlio insieme fa dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò ancora di più attenzione che anche qui se uno conosce bene l'etimologia di questi nomi adesso io purtroppo non mi ricordo bene ahimè l'etimologia di Anania sì perché Anania Anania in ebraico significa chiedere no? significa Dio chiede Azaria dunque se non ricordo male Yahweh Azar non mi ricordo che significa in ogni caso su questa su questa cosa diciamo che Raffaele gioca su significati etimologici etimologici quindi non dice una bugia cioè che è figlio di perché non lo è ma gioca sull'etimologia d'accordo? no Anania significa letteralmente Yahweh è Misericordioso è certo che lui è figlio di Anania Anania in questo senso capite? e Azaria se non ricordo male però non ci metto la mano sul fuoco adesso purtroppo poi se sente questa catechesi qualche esperto in ebraico potrebbe rispondermi no? ma Azaria dovrebbe significare Yahweh aiuta se non ricordo male ma non ci metto la mano sul fuoco no? quindi sono Yahweh aiuta figlio di Yahweh fa misericordia quindi capite e uno dei tuoi fratelli nel senso già spiegato prima no? ecco questo semplicemente per per evitare insomma che a volte qualcuno si imbatte in certi particolari della saga scrittura che vanno un pochino decodificati retti e interpretati altri rimangono comunque un pochino oscuri no? insomma Tobi dà sta benedizione e e alla fine partono quindi il giovane parte con l'angelo parte anche il cane e camminarono in segue finché e si fermano a passare una volta sul fiume a tigri qui sul tigri succede un particolare importantissimo il giovane è sceso nel fiume per lavarsi i piedi quando ecco un grosso pesce balzò e tentò di volare il piede del ragazzo che si mise a guidare Tobia ma l'angelo gli disse afferra il pesce e non lasciarlo fuggire il ragazzo che riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo arriva gli disse allora l'angelo aprilo e togliene fiele cuore e fegato l'abbiamo già parlato nella volta scorsa pesce e il significato anche qui simbolico allegorico di questi organi pesce ictius in greco l'acronio isus cristos te uio soterno mettere in disbatte e getta via invece gli intestini il fiele il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti il ragazzo sparta il pesce ne tolse il fiele il cuore il fegato e poi rossi una porzione del pesce la mangiò e l'altra parte se la mise in serbe dopo averla salata riprendono il viaggio e vanno in media allora il ragazzo rivolse all'angelo questa domanda azaria fratello che rimedio può esserci nel cuore nel fegato nel fiale del pesce gli rispose quanto al cuore al fegato ne puoi fare su fumigi in presenza di una persona uomo o donna invasala dal demonio o da uno spirito cattivo e cesserà in essa ogni versazione e non resterà più traccia a cura che è esattamente quello che succederà davanti a Sara il fiale invece serve per esplomarlo sugli occhi di un affetto dal bugine si soffre su quelle macchie e gli occhi guariscono ed è esattamente ciò che farà fare Raffaele sugli occhi di Tobi entrano nella media e già erano vicini a Ecbatana quando Raffaele disse al ragazzo fratello Tobia rispose eccomi questa notte dobbiamo alloggiare verso la guerra che è tuo parente egli ha una figlia chiamata Sara e all'infuori di Sara nessun altro figlio o figlia tu come il parente più stretto hai diritto di sposarla più di qualunque altro uomo e di avere in eredità hai bene di suo padre è una ragazza seria coraggiosa molto graziosa e suo padre è una brava persona ascoltami tu hai il diritto di sposarla fratello io parlerò della fanciulla del padre questa sera perché la servi come tua fidanzata quando torneremo da Raffaele faremo il matrimonio so che il raguera non potrà rifiutarla a te e prometterla ad altri egli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione della legge di Mosebo che egli sa che prima di ogni altro aspetta a avere suo figlio ascoltami dunque questa sera parleremo della fanciulla e ne domanderemo la mano e al nostro ritorno da ragge la condurremo con noi a casa tua Tobia risposta a Raffaele fratello Azzari ho sentito dire che Ese è già stata in moglie a sette uomini ed essi sono morti nella stanza nozziale la stessa notte in cui devono dirsi a lei ho sentito inoltre che un demonio le uccide i marichi io ho paura il demonio è giroso di lei a lei non fa del male ma se qualcuno si vuole accostare glielo uccide ora io sono l'unico figlio di mio padre ho paura di morire e di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia madre per l'angoscia della mia perdita non hanno un altro figlio che li possa seppellire ma quello gli disse hai forse dimenticato il demonio di tuo padre che ti raccomandava di prendere in moglie una donna del tuo casato ascoltami dunque fratello non preoccuparti di questo demonio e sposalo sono certo che questa sera ti verrò data in moglie quando però entri nella camera anunziale eccolo prendi il cuore il fegolo del pesce e mettile un poco sull'abbraccio degli incensi l'odore si spanderà e il demonio lo dovranno usare e fuggirà e non comparirà più intorno a lei attenzione se mi posso adesso permettere di fermarmi un attimo il fegato del pesce e il cuore sull'abbraccio degli incensi mi permetto un po' ne ho parlate altre volte per riraccomandare a tutti andando a cercare qualche sacerdote che faccia questa cosa che lo può fare di per sé qualunque sacerdote della chiesa cattolica anche non esorcista l'importanza di tenere nelle nostre case e di bruciare ogni tanto sulla brace non un incenso qualunque ma l'incenso esorcizzato perché l'incenso esorcizzato se mi posso permettere ecco è efficace contro i demoni sicuramente tanto quanto il cuore e il fegato sulla brace degli incenzi noi abbiamo bisogno oggi più che mai di essere e di riscoprire l'uso e di essere quindi di proteggere di essere protetti e di proteggerci con l'uso dei sacramentali se si accende l'incenso esorcizzato dentro casa qualunque presenza sgradevole ci dovesse essere state tranquilli che con la presenza da quella casa se ne deve andare di certissimo appena i diavoli sentono l'odore dell'incenso esorcizzato scappa se non ci stanno meglio ci sentiamo soltanto un po' di buon odore noi respirandoci comunque un po' di incenso esorcizzato mare non ci fa manca a noi ma se ci dovesse essere qualche presenza sgradita e noi questo non possiamo saperlo con certezza quanto meno certo a volte in alcune case che in un sacco di guai c'è motivo di sospettare qualcosa fatelo io lo faccio a casa mia lo faccio quindi non ho nessuna paura di dirlo di espor lo faccio intanto lo faccio ce l'ho per me è molto facile insomma perché lo faccio io lo prendo in un esorcizio da solo però se è possibile usatelo questo e tanti altri sacramentali che sono un accessorio attenzione alla vita di grazia non è che uno fa una vita disordinata lontana dai sacramenti e poi lo sa l'incenso esorcizzato no fa una vita di grazia vicinanza con il Signore prega va a messa almeno la domenica si confessa fa la comunione e in più usa anche questi mezzi finalizzati direttamente dalla difesa alla difesa dal male quindi innanzitutto bruci poi prima di unirti con essa alzatevi tutti e due a pregare supplicate il Signore del cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza non temere essa ti è stata destinata fin dall'eternità sarai tu a salvarla ti seguirà e penso che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli non stare in pensiero ora attenzione a queste frasi questo gli sposi i promessi sposi lo evidenzio se lo dovrebbero stampare dentro il cervello vorrei tanto sapere quante sono le persone che si sposano oggi io l'ho celebrato recentemente un matrimonio così lo sanno che ne parla a tutti arrivati santamente al matrimonio casti e vergini che prima di unirsi mi hanno detto a me che avrebbero fatto questa cosa si prega questo fanno i figli di Dio non i figli di questo mondo perverso e corrotto supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza questa era una della sua famiglia quindi se riprendiamo la l'analogia che ho azzardato a fare prima nell'interpretazione se tu ti sposi una persona facendo un matrimonio secondo Dio che oggi amici cari lo fanno in ben pochi mi dispiace dirlo non temere essa di stare data fin dall'eternità ma questa non è una cosa che va in automatico cioè io mi sposo basta che mi sposo in chiesa quindi posso pensare con quello come mi sono sposato e stavo destinato fino all'eternità non è vero questo qui non è vero la Madonna lo disse a Santa Giacinta a Fatima ci sono alcuni matrimoni che non sono da Dio non piacciono a Dio quindi non è una cosa che va in automatico così come quando San Paolo dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio se tu stai nelle grazie di Dio tu puoi e devi pensare che anche una croce è anche un'apparente disgrazia è in realtà una grazia ma se tu non stai in grazia di Dio si può pensare allo stesso modo io faccio sempre qualche esempio un po' così no? immaginiamo un il solito ragazzino diciottenne che un bel sabato sera si ruba la Porsche del padre per andare a fare lo splendido con le ragazzine e portarla in discoteca dopodiché pasticche e acco la gogo notte brava riprende sta Porsche se ne va 200 all'ora e si pianta contro un palo cos'è volontà di Dio questa qui? volontà di Dio permissiva si ma volontà di Dio permissiva c'è volontà di Dio volontà di Dio permissiva perché è chiaro che Dio permette sempre l'uso della libertà delle cause seconde pure l'inferno è volontà di Dio permissiva sicuramente no? ha condannato è volontà di Dio permissiva ma non possiamo crogiolarci sulla volontà di Dio permissiva per avere la benedizione di Dio sulla nostra vita ricordiamoci quello che ci ha detto Tobia tu vivi in grazia osserva i comandamenti sii giusto e sii santo fare l'emosina se puoi e poi aspetta di ogni grazia e benedizione poi stai tranquillo dentro questo orizzonte però che ogni cosa che ti accadrà ci avrà il sigillo dell'onnipotente ma ci deve essere questo orizzonte perché se tu esci dalla grazia di Dio che significa che passi in grazia di Satana Satana dà sofferenze gratuite dà sofferenze nella sua testa è chiaro che poi nostro Signore nella sua onnipotenza può anche prendere una cosa del genere e trasformarla in grazia utilizzarla come lui solo fa sa fare perché Dio è Dio perché sa trarre il bene anche dal male ma questo però è un discorso accidentale a parte noi non dobbiamo andarci a far fare dal diavolo un male gratuito che ce lo siamo andati a cercare per causa nostra le persone vanno responsabilizzate vanno noi ci scriviamo la nostra sorte e anche quello che ci capita nella nostra vita attraverso le nostre liberazioni che commettiamo ogni giorno non diamo a Dio colpe che non ha come qualche sacrilego personaggio del mondo dello spettacolo ha osato anche scrivere e cantare anni addietro che ce l'aveva col padre eterno non c'è mai l'unica persona contro cui possiamo avercelo ce lo dice la sapienza della chiesa chi è si si batte il petto e si fa mea culpa mea culpa mea massima culpa non ci sono altri colpevoli contro cui prendersela perché dice ma non mi ha stato il diavolo a farmi del male il diavolo non può fare nulla a noi nulla se noi non gli apriamo qualche porta cosa disse Gesù prima della passione egli non ha nessun potere su di me in che senso perché era Dio perché era Dio insomma bella forza il diavolo non aveva nessun potere su Gesù non solo in quanto Dio ma in quanto uomo non lo poteva toccare perché perché era senza peccato perché era senza peccato noi non possiamo arrivare evidentemente tanto in alto no però se stiamo lontani dal peccato grave che ti fa il diavolo liberamente ti farà quel poco quel poco che Dio gli permette ti tenterà magari ogni tanto ti procurerà qualche qualche fastidio qualche si vendica un po' contro le persone che non gli vogliono che non gli avranno tanto le porte ma non troppo perché il nostro Signore non glielo permette ordinariamente a meno che non ci siano storie di anime rette di anime vittime o cose di questo genere in quel caso può succedere di tutto ma noi dobbiamo ragionare sull'ordinario su quello che ordinariamente accade ora quando dobbia sentire parole di Raffaele e seppe che Sara era sua consanguinea e la stirpe della famiglia di suo padre l'amò al punto da non saper più distogliere il cuore da lei oh un bell'amore di uno sposo verso una sposa l'amò al punto da non saper più distogliere il cuore da lei e quindi tutto contento quando entrano in Batana si è gasato Tobia fratello Azzaria conduci il mio diritto da nostro fratello la guerra lo conduce siate benvenuti li fa entrare in casa e disse alla moglie Edna ma questo somiglia sto giovane a mio fratello Tobi infatti era il figlio Edna domandò loro ma di dove siete fratelli e si risponde siamo dei figli di Neftali deportati a Ninive dice ma allora conoscete il nostro fratello Tobi lo conosciamo lo conosciamo come sta sta bene è mio padre dice Tobia Raffaele balzò in piedi l'abbracciò e piazzò e disse usi benedetto figliolo tu sei figlio di un ottimo padre che sventura per un uomo giusto e largo di Neremosi in essere diventato cieco si gettò al collo del parente e pianse pianse anche la moglie e pianse anche la loro figlia Sara prende un montone lo macella gli fa accoglienza si davano dice fratello Zaria domanda a Raffaele che mi dia in moglie mia cugina Sara mi dice alle orecchie e Raffaele udì queste parole e disse al giovane mangia mangia bevi sta allegro per questa sera poiché nessuno all'infuori di te mio parente ha il diritto di prendere mia figlia Sara come del resto neppure io ho la facoltà di dare un altro uomo all'infuori di te perché tu sei il mio parente più stretto però ti voglio dire con franchezza la verità e moglie dice guarda che io ero andato a sette mariti tutti scelti dai nostri fratelli e tutti sono morti dalla stessa notte delle nozze ora mangia e bevi figlio lo sogno lo prevederà dice no no non mangerò affatto prima che tu abbia preso essa ti viene data secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia data prendi dunque tua cugina e d'ora in poi tu sei suo fratello e ne hai tua sorella ti viene concessa ad oggi e per sempre il signore dal cielo vi assista questa notte figlio mio e vi conceda la sua misericordia e la sua pace chiama la figlia e quando il sapene l'ha presa per mano l'ha fidato a Tobì con queste parole prendila secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè ti viene concessa come moglie tienila e sana e salva conduciva da tuo padre il Dio del cielo gli assista a cosa faccia scrivono su documento di matrimonio come era in uso allora mangiano bevono poi era quella che chiamava la moglie e disse sorella mia prepara l'altra camera e conduciva dentro questa la va a condurre in camera e lei comincia a piangere perché dice ma va a finire come la volta scorsa dice ma coraggio figlia il Signore del cielo cambia in giro il tuo dolore coraggio figlia quando ebbero finito di mangiare e di bere risultati di andare a dormire adesso qui accompagnarono il giovane e lo introdusse nella camera da letto Tobì allora si ricorda delle parole di Raffaele prese dal cuore dal suo sacco il feco del cuore del pesce e li pose sulla base dell'incenso l'odore del pesce respinse il demonio che fuggì nelle regioni dell'Alto Egitto mi si ricò all'istante e in quel luogo Raffaele e in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi quando scocca l'ora che il diavolo viene messo in ceppi in ceppi viene messo figlioli miei cari e per chi come me si affligge non poco per tante situazioni che adesso si vedono in giro anche nella nostra amata chiesa non dubiti mai che questa cosa qui lo incatenò e lo mise in ceppi accadrà anche questa volta è solo questione di tempo si sfoghi fino a quando il Signore gli concede di sfogarsi e quello sicuramente per la nostra purificazione tutto concorre alla rinascita di una chiesa che sarà così tanto splendente e meravigliosa che benediremo il Signore ecco anche per i travagli che ha dovuto passare per risorgere così bella certo adesso purtroppo vediamo sempre l'ultima carta del mazzo di carte quella dell'istante attuale ma la fede ci fa vedere lontano non dimentichiamo mai queste parole lo incatenò e lo mise in ceppi perché i diavoli contro gli angeli di Dio e contro Dio possono fare niente niente se Dio dice basta è basta e se non lo dice ancora è perché c'è qualche buon motivo allora Tobia si alza e dice sorella alzati preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazie e salvezza vedete questa è la lettura che si legge durante i matrimoni no è la bellissima preghiera di Tobia benedetto benedetto sei tu di i nostri padri benedetto per tutte le generazioni del tuo nome ti benedico in igiele tutte le creature per i secoli dei secoli tu hai creato Adamo e hai creato la sua moglie perché gli possi di aiuto e di sostegno da loro due nacque tutto il genere umano attenzione qui ci sono scritte queste cose queste non sono favole non è una favoletta questa qui con buona pace di chi anche nella chiesa si mette a fare compromessi o tentativi di conciliazione con teorie strane tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie perché gli possi di aiuto e di sostegno questo c'è scritto nel libro della Genesi e da loro due nacque tutto il genere umano questo è un principio fondamentale della nostra fede divina e cattolica Pio XII ha condannato come eretico il poligenismo la dottrina cioè Pol Poligenesi quindi Genesi da molti che afferma che il genere umano non è affatto nato dai primi due ma da più radici annate masit tu hai detto non è cosa buona che l'uomo resti solo facciamogli un aiuto simile a lui facciamogli il libro della Genesi attenzione ora non per lussuria io prendo questa mia parente ma con rettitudine l'intenzione il matrimonio non deve essere celebrato per lussuria non è che mi sposo non è che mi sposo con una persona soltanto perché mi piace o perché mi attrae per carità queste sono cose nell'attuale economia che c'è che ci possono stare ma non è questo il motivo principale per cui uno si sposa perché se è questo quel matrimonio non andrà bene con rettitudine di intenzione lo prendo degno di avere misericordia di me di lei di farsi giungere alla vecchiaia gli stavano insieme Amen e poi dormirono per tutta la notte ma la guerra si alzò chiamò i servici e diceva infatti e andò con loro a scavare una fossa o se è morto pure lui non abbiamo a diventare oggetto di schermo e di librezzo ma quando il vero temato di scavare la tomba termina di scavare la tomba la guerra torna in casa chiamò la moglie e gli disse manda in camera a vedere se è vivo o se è morto mandarono alla serva e si entrò e ritrovò che dormivano insieme immersi non sono profondi la serva o sci e riferirò che era vivo e che non era successo nulla di male benedissero allora gli dice attenzione questi dormono quella notte lì il testo dice che dormono e non è dormire in senso metaforico hanno proprio dormito quindi vuol dire che hanno dormito hanno pregato hanno scacciato Asmodeo hanno pregato e hanno dormito io conosco coppie pochissime che hanno fatto la stessa cosa e di quelle che sono arrivate al matrimonio come Dio comanda quindi che ci hanno come dire a ordine siamo trattenuti piena vita la prima notte di nozze no la seconda per fare come Tobi e Salve io le conosco non dico le bugie quanto gradirà il signore una cosa di questo genere quanto benedirà quella coppia capace di fare queste cose oggi poi in questo contesto quindi dove il bene fatto in questo senso conta cento volte tanto perché sia contro tutti tutto e tutti e qui ci danno le benedizioni dei familiari di Sara all'Altissimo Rauele che ha liberato la figlia e che finalmente prepara questo grande matrimonio chiama Tobia era a guerra e gli dice per 14 giorni non ti anderei di qui ma ti fermerai da me a mangiare e a bere e così alliederai l'anima già tanto afflitta di mia figlia di quanto possiede prenditi la metà e torna sano e salvo dal tuo padre quando io e mia moglie saremo morti anche l'altra metà sarà posta coraggio figlio io sono tuo padre dedine tua madre noi apparteniamo a te come a questa tua sorella eccetera va da Gabael consegna il documento quindi Raffa vanno nella regione di media prendono questi soldi e poi partono per andare a formalizzare le nozze ok adesso andiamo facciamo un piccolo jump così concludiamo a passare al capitolo dove viene guarito toby toby tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre corriamo davanti prima di tua moglie prepariamo la casa mentre gli altri vengono insomma tornano vanno raffa raffa sui suoi occhi versetto 11 e lo trae vicino dicendo coraggio padre spalmò il farmaco che operò come un morso poi distaccò con le mani le scaglie bianche le margini dagli occhi toby gli si buttò il collo e pianse dicendo ti vedo figlio luci dei miei occhi e aggiunse benedetto Dio benedetto il suo grande nome benedetto tutti i suoi angeli santi benedetto il suo grande nome su tutti noi benedetto gli angeli santi perché mi ha colpito ma poi ha avuto pietà ed è qui con tempo mio figlio toby toby entra in casa eccetera toby poi si avvicina a Sara la sposa di suo figlio la benedice grande festa a Ninive e infine Raffaele li chiamano tutti e due in disparte e disse loro benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che gli ha fatto perché sia benedetto e celebrato il suo nome fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio come giusto e non trascurate di ringraziarlo è bene tenere nascosto il segreto del re ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio cioè le opere che Dio ha fatto con noi dobbiamo dirle le chicche le grazie che ci riserva a titolo personale le teniamo tra noi e loro vedete fate ciò che è bene e non non vi colpirà alcun male parola di Raffaele ci crediamo noi non vi colpirà alcun male perché c'è la benedizione di Dio con noi se facciamo il bene guardate che quando saremo morti vedremo che ogni male che ci ha colpito ce lo siamo andati a provocare noi solo noi qui non siamo in grado di fare nessi di causa ma quando staremo davanti al Signore lo saremo come buona cosa è la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia meglio il poco con giustizia che la ricchezza con ingiustizia meglio è praticare l'elemosina che mettere da parte oro parole che pesano una tonnellata l'elemosina salva dalla morte purifica da ogni peccato ricordiamole queste cose e facciamo l'elemosina coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita coloro che commettono il peccato l'ingiustizia sono nemici della propria vita capito io vi voglio manifestare tutta la verità senza non nascondersi vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del re mentre è cosa gloriosa di vivere le opere di Dio sappiate dunque e adesso dire che quando tu e Sara eravate in preghiera io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore così anche quando tu seppellivi morti quando tu poi non hai esitato ad alzarti ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a curare la sepoltura di quel morto allora io sono stato inviato per provare la tua fede ma Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per provare te e Sara tua nora io sono Raffaele uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della Messa di Dio da questa frase noi sappiamo San Tommaso da qui non ne parla bene della presenza dei sette angeli assistenti si chiamano così tecnicamente tre sappiamo i nomi della Sacra Scrittura che sono San Michele San Gabriele e San Raffaele gli altri quattro dalla tradizione Uriele Iudiele Sealtiele e Barachiele i sette arcangeli furono riempiti di terrore tutte e due si prostavano con la faccia a terra ma gli angeli non temete la pace di Dio sia con voi benedite Dio per tutti i secoli quando ero con voi io non stavo con voi per l'iniziativa ma per la volontà di Dio Lui dovete benedire sempre a Lui cantate inni a voi sembrava di vedervi mangiare ma io non mangiavo nulla ciò che vedevate era solo apparenza ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio io ritorno da quello che mi ha mandato scrivete tutte queste cose che vi sono accadute ovviamente perdonatemi la polemica voluta tutte queste sono ritenute da molti intelligentoni moderni leggende ok vabbè e allora Tobi scrive la sua preghiera e con questo concluo dice la sua preghiera benedetto Dio che vive in eterno il suo regno dura per tutti i secoli attenzione questo è uno degli inni che si canta il cantico di Tobia nella liturgia delle ore questo fatelo leggere a un pochino di gente che dice che Dio non castiga egli castiga e usa misericordia fa scendere negli abissi della terra fa riservire dalla grande predizione e non la sfugge dalla sua mano c'è gente che siccome ha detto che Dio castiga ha passato i guai con i propri datori di lavoro santi l'hanno messa la berlina la pubblica cogna sta scritto qui e gli castiga e usa misericordia lodatelo figli di Israele davanti alle genti esaltatelo davanti a tutti i viventi vi castiga per le vostre ingiustizie ma guarda un po' ci castiga Dio per le nostre ingiustizie certo che ci castiga per le nostre ingiustizie nell'antico e nel nuovo testamento su questo non è cambiato proprio niente ma userà misericordia a tutti voi il castigo è finalizzato come si regge nella lettera agli ebrei alla correzione alla conversione e quindi convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima per fare la giustizia davanti a lui e allora egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto ora contemplate ciò che ho operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce benedite il Signore della giustizia ed esaltate il re dei secoli io gli do l'ota nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori convertitevi o peccatori e operate la giustizia davanti a lui questo deve predicare alla Chiesa oggi come ieri convertitevi o peccatori chissà che non torni ad amarmi e vi usimi misericordia io esalto il mio Dio il cerebro del cielo assurdo per la sua grandezza tutti ne parlano e poi ancora se non bastasse Gerusalemme città santa ti ha castigata per le opere dei tuoi figli ti ha castigata ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti e poi qui qui ragazzi c'è questo cantico che in interpretazione allegorica si può applicare addirittura alla Madonna egli ricostruirà il suo tempio con gioia alla Madonna e alla Chiesa per alledare tutti i deportati come luce splendida brillerà fino ai confini della terra nazioni numerose verranno a te da lontano gli abitanti di tutti i confini della terra verso le dimore del tuo santo nome generazione e generazioni esprimeranno l'intera esultanza e il nome della città eretta dureranno i secoli maledetti coloro che ti malediranno maledetti quanti ti distruggono demoliscono le tue mura rovinano le tue torri e incendiano le tue obitazioni se lo ricordino questo vale anche per i nemici della Chiesa ma benedetti per sempre quelli che ti ricostruiranno sorge ed esulta per i figli dei giusti tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore nei secoli beati coloro che ti amano beati coloro che giuiscono per la tua casa qui leggiamo insieme in parallelo Maria e Chiesa tutti e due beati coloro che verranno pianto per le tue sventure chi di noi ha mai pianto sui dolori della Madonna ma chi di noi nell'attuale contesto fa una cosa molto importante chi è che piange sulle sventure della sposa di Cristo questo lo possiamo fare e il Signore lo gradisce assai gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre anima mia benedici il Signore il Gran Re Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre e poi continua le porte saranno costruite di zaffiro di smeraldo le torri con scolloro le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di ofir le porte di Gerusalemme risuolaranno di canti di sultanza e diranno alleluia benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo nome santo per sempre qui finiscono le parole di Tobi e Tobi muore in pace all'età di 112 anni ecco amici siamo dilungati un pochino più del solito abbiamo sforato un po' il tempo massimo della catechesi biblica però credo che fosse bello terminare questo bellissimo escursus non ho commentato molto perché non c'è tanto da commentare è un qualche cosa di straordinario le parole di Tobi e di Raffaele e di Tobia sono veramente da imprimercene nel cuore tutte consiglio di ogni tanto di andarla a rileggere perché purtroppo sapete le parole passano ma alcune cose queste le dobbiamo fare nostre e interiorizzarle nell'intimo del nostro cuore bene amici concludiamo e alla prossima dove ci attendono altre cose meravigliose non più di Tobi ma sorpresa lo vedremo la prossima volta Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga grazie a tutti